Noi stiamo compiendo un viaggio tra le bellezze, la storia, le tradizioni, ma anche l'umanità di questo luogo, questa comunità, come la racconteremo? È una comunità meravigliosa, ho avuto la dimostrazione di questo quando ho fatto un appello recentemente per poter rendere usufruibile di nuovo questa meravigliosa chiesa, se ci fossero stati dei volontari per fare le pulizie, si sono offerte una quindicina di persone che hanno lavorato per un mese intero e adesso trovate la chiesa in condizioni bellissime e quindi ho avuto una dimostrazione ulteriore di che bella comunità che c'è, che cura la chiesa nuova ma cura anche i beni storici. Qui vicino c'è un convento con le suore che andremo adesso a visitare, però prima vorrei portarvi a visitare l'archivio storico che è nell'ufficio di Don Banche, il parroco che c'era tanti anni fa durante anche la guerra e poi dopo, dove ci abbiamo anche alcuni beni di valore che sono stati recuperati anche qui da volontari.